In quale città si trova l'Alhambra? Barcellona, Granada, Marbella. L'Alhambra? Cos'è? L'Alhambra. Barcellona. No, Granada. L'alcalde della città nazarì, Paco Cuenca, ha dato un passo adelante. Viste che l'Alhambra sta qui, non sta in Barcellona. E ha tomato la iniziativa di invitare a Chiesa a conoscere la città dell'Alhambra mediante una carta formal. Sì? Ciao Andrea, come vai? Soy Paco Cuenca, il alcalde di Granada. Hola alcalde, che tal stas? Oye, tu conoces a Federico Chiesa, il jugador di futbol di la selezione italiana. Que quiero che venga a Granada per che conoscere l'Alhambra, che sappia che sta qui, in nostra conoscere l'Alhambra. Sì? 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 qui in Granada! Nos vemos pronto! Estoy muy contento di regresar a quello che è la mia seconda casa, e nos vemos pronto! E, per supuesto, stai sereno sempre!